cari amici cari amici tanti saluti da Serafino Massoni oggi è giovedì 13 ottobre 2011 e vedete la foto Marco Travaio e Beppe Grillo Marco Travaio e Beppe Grillo e gli antichi romani questo video intitolato Marco Travaio abbandona Beppe Grillo e gli antichi romani dicevano nomen est omen cioè il nome e il destino nel nome c'è il destino travaio e deriva travaglio significa il lavoro ma il lavoro fatto con sudore della propria fronte proprio un lavoro duro travaglio travagliare in certi dialetti italiani c'è ancora ha travagliato ha travagliato ha travagliato ma non ha lavorato nel senso ha travagliato cioè ha lavorato duro ha sudato tanto e Marco Travaio infatti lavora indefessamente c'ha c'ha un archivio che che mette paura bene Grillo e Beppe nomen est omen nomen o nomen omen e Grillo è il Grillo parlante di 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 Pinocchio no Grillo parlante di Pinocchio Carlo Collodi che Pinocchio gli lancia una martellata a Grillo al Grillo parlante lo schiaccia e poi dice Pinocchio dopo che ha lanciato la martellata al Grillo e l'ha schiacciato sul muro ti dice così un'altra volta impari adesso qua sta succedendo scusatemi sta succedendo un bordello un bordello sta succedendo un lupanare un lupanare cioè cioè sta succedendo scusatemi un casino perché non so io non so non so cosa non so non so bene ma qua tanti 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 telespettatori di questa appreggiata web tv e mi stanno letteralmente e sommergendo di di notizie relative al fatto quotidiano di cui appunto è vice direttore Marco Travaio Marco Travaio il direttore e vice direttore di del pregiato quotidiano intitolato il fatto quotidiano e insomma fatto sta che ora litigano hanno litigato Marco Travaio e Beppe Grillo hanno litigato non si capisce bene ma lo sapete che in mercato è tutto un litigio non si fa altro che litigare però salta in ballo il fatto quotidiano il pregiato il pregiato giornale il fatto quotidiano di cui è direttore Antonio Badellaro che che esce che il quale Badellaro esce dal Corriere della Sera prima esce dal Corriere della Sera va all'unità e lo dirige e poi e poi Antonio Badellaro e altri fondano in il nuovo giornale intitolato il fatto quotidiano che è diventato diciamo il giornale il giornale trend della nuova generazione perché ogni generazione ha il proprio giornale trend e una volta era l'unità l'unità che spopolava l'unità poi quando nacque il quotidiano la repubblica di Eugenio Scalfari poi tutti abbandonarono l'unità e tutti si rivolsero alla repubblica che faceva trend la repubblica poi anche anche la repubblica ha fatto il suo tempo ed oggi a fare trend e il giornale il fatto quotidiano è fatto sta che adesso i miei amici alcuni miei amici telespettatori di questa pregiata web tv mi tirano un ballo mi sentire non ballo pure a me e perché il mio amico mauro 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 e fz4093 è il mio amico mauro un un fedele dell'espettatore di questa pregiata web tv mi ha fatto questo video e gli ha usato l'estrema cortesia di di non renderlo pubblico e io invece voglio caro amico che tu questo ottimo video lo devi rendere pubblico lo metto devi mettere a disposizione web caro amico capito mauro si chiama ma vuole che io lo chiami mauro mi vuole bene questo molto bene pensate che ha fatto questo video caro io desidero che tu questo video lo renda pubblico d'accordo io serafino massoli sono contento se lo rendi pubblico se lo rendi pubblico non mi offendo cari amici non mi offendo capito caro capito mauro non mi offendo mauro non mi offendo rendilo pubblico è bellissimo bellissimo e questo video ti ramballo pure me e mi dice anche serafino quel bunga bunga perché la la sostanza del video del video di mauro mauro fz vedete fz e 40 93 e la sostanza del video è che io potrei essere in contraddizione per il fatto che ho sempre detto che che eugenio scalfari concita del gregorio lo fanno anche loro il bunga bunga perché e di giorno su sui loro giornali spareno a zero oltre il cavaliere però di notte eugenio scalfari e e la concita del gregorio vanno a fare di notte vanno a fare il bunga bunga col cavaliere nel senso che tirano tirano i diritti d'autore dai libri che loro loro e eugenio scalfari concita del gregorio hanno pubblicato per la casa editrice mondatori che del cavaliere e mi dice l'amico che è simpatico mi dice non solo me l'ha detto in questo video ma mi ha scritto tanti messaggi mi ha mandato anche tanta documentazione mi ha detto è però pure tu serafino massoni fai il bunga bunga è è perché tu hai pubblicato per 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 la casa editrice a liberti per la casa editrice a liberti e quali verti mi già fa un discorsetto ed è a liberti a liberti editore questo è la mia ultima opera la mia opera è apparsa assieme ad altre opere nel catalogo della casa editrice a liberti e l'editore si chiama francesco liberti però e salta fuori che ma io ve l'ho detto tante volte cari questo salta fuori che l'editore francesco liberti e sembra che di soldini ne abbia tanti assai tanti assai e sarebbe anche un uno dei co proprietari del pregiato giornale il fatto quotidiano e sì il fatto quotidiano non prende e non prende i fondi dello stato però e campa anche con la pubblicità di di società come banco intesa insomma campa anche con i soldini di società un po chiacchierate un po chiacchierate per cui ovviamente ha ragione e f z 40 93 alias mauro a dirmi ma che se raffino massonio fai pure tu bunga bunga cioè chiacchieri bene ma operi male chiacchieri bene predichi bene ma operi male cioè vai anche tu a a prendere i soldi di di francesco liberti che ricassai e che poi e ricassai e che poi è uno dei proprietari del fatto quotidiano il quale fatto quotidiano prende i soldini prendi soldini della pubblicità e della parte di aziende ma anche banca intesa meno tanto chiacchierate tanto chiacchierate tanto chiacchierate tanto chiacchierate sul piano dell'etica capital capital capitalistica beh ma io cari amici e vi ho detto tante volte vi ho detto tante volte cari amici che che per esempio io io non sono stato pagato mai da francesco liberti non me la mica pagati di diritti d'autore ho fatto il video ho fatto il video ho fatto il video ho fatto il video a liberti edizioni intitolato il video di due o tre anni fa a liberti edizioni oppure editore a liberti non ricordo a liberti edizioni a liberti edizioni mi pare che sia io non so mica stato pagato ho pubblicato ho pubblicato per la liberti editore ho pubblicato ho pubblicato la lama e la rosa poi ho pubblicato il marinaio delle antille e poi la steppe del serpente io da questi tre 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 opere la lama e la rosa il marinaio delle antille e ultimo qua la steppe del serpente non ho preso una lira e l'ho rivelato pubblicamente mi pare due tre anni fa in un video intitolato a liberti edizioni a liberti editore non mi ricordo a liberti edizioni a liberti edizioni a liberti dove è che io ho preso i soldi il fatto è che questo romanzo quando uscì provoca tanto clamore ne parlarono anche sulle prime pagine dei quotidiani quando uscì questo romanzo che fece tanto clamore vedete a liberti editore alla lama e la rosa quelli del gruppo editoriale internazionale a scetta si rivolsero si rivolsero ad a liberti editore dicendo a liberti editore che ce lo presti che ce lo presti questo romanzo che noi lo pubblichiamo in grande tiratura e lo portiamo in tutte le edicoli italiane a liberti editore dice si te lo prestiamo ed uscì questa eccolo qua la lama e la rosa e l'ascet ascet ascet uscì per ben due volte in tutte le edicole tutte dicesi tutte edicoli italiane nella grande collana i codici segreti della storia questi mi hanno pagato questi si che mi hanno pagato una volta poi l'ho dimostrato anche siccome la tiratura era notevole io ebbi vi mostrai tutto ebbi un assegno di 15 mila euro ma mi pagarono a scetta mi ha pagato invece purtroppo mi dispiace tanto ma se voi andate a vedere il mio video intitolato edizioni a liberti a liberti edizioni io proprio vi dico pubblicamente che a me è la casa editrice a liberti e non mi ha dato manco una lira per i libri da lei pubblicata cioè i libri che sono i miei libri che sono nel catalogo a liberti a me non hanno fruttato manco il becco di un quattrino io non ho visto niente sono stati venduti bene bene o benissimo bene o benissimo però io non ho visto il becco di un quattrino un quattrino non ho visto il becco di un quattrino capito caro amico perché le vie del signore sono infinite caro quindi io non lo faccio bunga bunga caro capito nel senso che vado a riscuotere i soldi da 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 calibreti a me non mi ha pagato mai benché ci siano i contratti editoriali a me non mi ha pagato mi ha pagato a shet il gruppo editoriale internazionale a shet questo mi ha pagato questo l'ha fatto il suo dovere io ho ricevuto 15.000 euro euro plurale euro o euri ma 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 da liberti manca una lira non ci sono mai andato io a casa da liberti a fare bunga bunga come ho detto che hanno fatto eweg giovanni e con città di gregorio non mi ha pagato sarebbe come se e e il premier seedio benusconi non non avesse pagato gli diritti d'autore a concisienne de gregorio e eugenio scalfali e allora se e e e e e premier e figlio Berlusconi non avesse pagato a Concita De Gregorio e Eugenio Scalfari i diritti d'autore dei loro libri pubblicati per la casa editrice Mondadori e loro, Concita De Gregorio e Eugenio Scalfari, avrebbero fatto un casino un bordello, un rubanare una casa di tolleranza avrebbero fatto sui loro quotidiani io che posso fare? Al massimo posso fare un video su questa pregiata web web tv al massimo, ma non c'è lo stesso effetto non c'è lo stesso effetto capito? Quindi caro amico tu certo queste cose non le potevi sapere e neanche io posso pretendere, caro amico Mauro alia FZ io non posso neanche pretendere che tu che tu abbia visto tutti i miei video sono quasi 2300 e più tu non puoi aver visto il mio video intitolato Edizioni a Liberti mi pare Edizioni a Liberti dove mi lamentavo mi lamentavo mi lamentavo un po' del mio editore del mio editore che non mi dava i diritti d'autore pazienza adesso ci ho messo una pietra sopra va bene tanto tanto erano arrivati i soldi dal gruppo editoriale Aschet e mi sento un po' compensato capito? 15.000 euro per un lavoro sterminato qua c'è una documentazione sterminata ci ho passato settimane intere io negli scantinati nei sotterranei del Vaticano per fare questo per scrivere questo romanzo tra l'altro nei sotterranei del Vaticano tanto è vero che c'è scritto appassio nella collana i codici segreti della storia i codici segreti della storia e siamo i tempi della nascita del tribunale della Santissima Inquisizione siamo i tempi della grande crociata contro i catari i catari i catari i catari siamo i tempi dell'imperatore Federico II di Svevia Federico II Hohenstaufen Altavilla ha detto lo stupor mondi d'accordo e mi sono un po' rassegnato ho detto vabbè lasciamo perdere si vede che il mio editore preferisce anziché pagare a me i miei diritti d'autore preferisce tenere in piedi il giornale il fatto quotidiano pazienza cascherà mica al mondo quindi caro io non ci sono mai andato a casa di Aliberti editore a fare bunga bunga perché non mi ha mai dato niente mentre Concita De Gregorio e Eugenio Scalfari sono stati invitati si fa per dire come metafora sono stati invitati a Villa San Martino è una metafora a fare bunga bunga nel senso che personalmente con le proprie mani mano le proprie mano anzi Silvio Berlusconi gli ha dato i soldi dei diritti d'autore a Eugenio Scalfari e Concita De Gregorio io non sono stato mai invitato nella pregiata casa di Francesco Aliberti a rispondere lì emolumenta mia capito? cioè i diritti d'autore mia non l'ho visti mai non l'ho visti ormai ci ho messo una pietra sopra ci ho messo una pietra sopra non mi piace andare in tribunale cari amici non mi piace non mi sono simpatici io avrei preferito una trattativa cordiale tra amici capito? vabbè pazienza tanto Ascet mi ha un po' ma un po' compensato di quello che non ho avuto dal mio editore va bene ma un po' compensato capito? e tanto non di solo pane vive l'uomo diceva Gesù capito? non di solo pane ci mancherebbe altro ecco caro io poi qua devo dire devo dire che ho ricevuto tanti 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 messaggi su questa facenda del fatto quotidiano dell'editore Francesco Liberti del fatto che Beppe Grillo non va sul fatto che Marco Travario ha abbandonato Beppe Grillo e mi ha scritto persino Mauro Milia di Facebook tramite l'amico Massimiliano alias Platon72 Platon vedete? mi ha scritto una simpatica lettera mi ha scritto sempre su questa faccenda ingarbugliata sempre su questa faccenda ingarbugliata qua del fatto quotidiano professore scrive Mauro Milia Mauro Milia di Facebook mi pare professore mi pare che il fatto quotidiano sia stato messo al bando da Beppe Grillo pare sia recente il fatto che il fatto quotidiano sia sponsorizzato da Eni e Banca Intesa e pensare che i giovani quelli ai 15 anni di stagione non hanno mica potuto chiedere prestiti in banca per farsi casa o una macchina invece devi vedere come certe banche sborsavano tanti ma tanti soldini a certi imprenditori i sindagati i politici i banchieri vanno sbaraccati suggerisco un video vedete non è soltanto l'amico Mauro Mauro che mi invita a parlare di questa faccenda non è soltanto l'amico Mauro mi raccomando Mauro rendilo pubblico questo capito io sono felice perché tu sei una persona molto gentile d'accordo non è soltanto l'amico Mauro stranamente si è concentrato tutto nel giro di un paio di giorni non so cosa sta succedendo perché io mi trovo una mia turi seppur hai capito sono tutto in mezzo nelle mie meditazioni non lo so quello che succede fuori me lo dicono i miei amici approfondirò in seguito quello che sta succedendo sindacati politici e banchieri vanno sbarancati suggerisco un video capito pure Mauro Milia mi suggerisce il video su questa faccenda poi Marco Travaio abbandona Peppe Grillo anche perché il discorso su Concita De Gregorio e Eugenio Scalfari che pubblicano libri attraverso Mondadori cioè secondo te secondo me secondo me fanno bunga bunga in quanto il giorno criticano Silvio e la notte prendono i diritti d'autore dalla Mondadori e mettiamoci anche il proprietario del fatto quotidiano a fare bunga bunga vero? cioè pure io quindi come dice l'amico Mauro pure io farei bunga bunga mi parla aver capito così appunto farei anch'io il bunga bunga a casa dell'editore Francesco Ribetti ma io no non ci sono mai andato in casa di Francesco a fare bunga bunga c'era rispondere i diritti d'autore capito? ci sono mai andato non li ho mai ricevuti i diritti d'autore i diritti d'autore dall'editore e Francesco Ribetti non ho visto un becco d'un quadrino che vi posso dire? che vi posso dire? non volete che vada un tribunale? ma io non ci vado un tribunale non ci vado un tribunale capito? per me non è una questione di diritti d'autore morte poi il movimento 5 stelle se la prende con quei giornali che prendono i soldi dalla pubblicità di Eni e Banca Intesa e poi pretendono di scagliarsi contro il sistema sì caro caro amico Mauro Emilia ma se l'ho detto tante volte che Carlo De Benedetti mi pare che si chiama Carlo De Benedetti che è il proprietario tra l'altro del gruppo editoriale L'Espresso L'Espresso La Repubblica Carlo De Benedetti è un capitalista buono invece essendo un Berlusconi è un capitalista cattivo perché i giornali i giornali si dividono i giornali che guardano a un bacino d'utenza di centrodestra e i giornali che vadano a un bacino d'utenza di centrosinistra per i proprietari dei giornali la politica non gliene frega niente ai proprietari dei giornali della politica gli frega soltanto di vendere i giornali e Carlo De Benedetti si è orientato sui giornali che sono comprati dal centrosinistra capito? per cui egli è un capitalista buono buono è ricco presso a poco come Silvio Berlusconi presso a poco Carlo De Benedetti però è buono è buono ed è amato dalle folle perché è contro Silvio Berlusconi che è il capitalista cattivo però sono ricchi quasi alla stessa maniera capito? sono come le guerre civili in Antigua Roma tra Silvia e Mario Silvia Mario stava dalla parte dei democratici e Silvia dalla parte degli aristocratici però Silvia e Mario erano ricchi alla stessa maniera appartenevano a famiglie patrizi che volete fare e il popolino è sempre strumentalizzato ai fini dei poteri quindi ricapitolando qua non capisco allora anche Francesco Liberti fa bunga bunga prende soldi da Eni e dalla banca intesa il sistema sono sicuro che ti farai sotto con un video ma Mario qua tutti vogliono che mi faccia sotto con un video relativamente al fatto quotidiano relativamente al fatto quotidiano relativamente a uno dei proprietari del fatto quotidiano che è Francesco Liberti che è anche il mio editore che ha un pregiato catalogo io non ho visto un becco di un quattrino comunque capito? non ho visto il becco di un quattrino pazienza non casca mica al mondo pure se non mi vengono pagati i diritti d'autore tanto tanto il mio lavoro è stato pagato almeno da questi almeno e questi e questi mica so e questi non fanno mica parte di un gruppo editoriale italiano questo è un gruppo editoriale internazionale cari amici allora ditemi di chi lo vado a fare bunga bunga con questi qua semmai ditemi questo ma io comunque dal mio editore Francesco Liberti non ho visto il becco del quattrino capito? e sì e questa è la prova che mi segue non deludermi mi dice Mauro Milia anche i sindacati fanno bunga bunga cliccate su google due punti i soldi dei sindacati e qua mi lascia pure il link e certo che fanno bunga bunga anche i sindacati fatta madonna è naturale che fanno bunga bunga ma bunga bunga lo fanno un po' tutti io vorrei un giorno l'ho già detto qualcuno vorrei un giorno fare un video intitolato piccoli berlusconi crescono sapete no? c'è un romanzo famoso romanzo intitolato piccole donne crescono capitani coraggiose così dovrei fare un video intitolato piccoli berlusconi crescono ecco chiarito il mistero del mio amico il mio amico Mauro FZ 4039 mi rattomando rendilo bublu questo video caro che poi io lo voglio ricoprire questo video di afflittuosi commenti già uno te l'ho mandato caro va bene va bene qua 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 io non so più che dire non so più che fare cari amici era inevitabile che Marco Travaio Marco Travaio si allontanasse da Beppe Grillo se Beppe Grillo attacca il fatto quotidiano perché il fatto quotidiano dice che lui non prende i soldi dello Stato però campa con tanta pubblicità di tante aziende citate prima citate prima e che non sono chiacchierate tanto bene vabbè e dopo si incazza del brutto Marco Travaio se si dicono certe cose pubblicamente vabbè cari amici dai e vabbè con questo video ho fatto un po' di chiarezza d'accordo cari amici ho fatto un po' di chiarezza io cari amici vi ringrazio tanto vi ringrazio d'accordo e vedremo cosa succederà e vi assicuro che intendo approfondirla ulteriormente la faccenda va bene fidatevi di me cari amici fidatevi di me grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni